Gentili telespettatori, buona giornata. Paragone dice che no all'impostazione di Palazzo Chigi che sta danneggiando gli italiani. Dice così Paragone, come i Talexit non diciamo no a tutto, diciamo no all'impostazione che hanno a Palazzo Chigi ed è l'impostazione che sta danneggiando i cittadini italiani e le imprese, dice il leader di Talexit Gianluigi Paragone a Reggio Calabria durante un comizio elettorale. Quindi Draghi che ha fatto un decreto mettendoci dentro una decina di miliardi per aiutare cittadini e imprese, secondo Paragone starebbe danneggiando i cittadini italiani. Vorrei chiedere al senatore Paragone di specificare esattamente in che modo Palazzo Chigi, cioè Draghi, sta danneggiando i cittadini italiani. Ha fatto appena adesso due decreti, il decreto aiuti bis di 17 miliardi, il decreto aiuti terzo da una decina di miliardi, si parla di 27 miliardi di euro senza fare debito, quindi se non fai debito non stai danneggiando lo Stato, l'Italia e di conseguenza il debito che è sulle spalle di tutti gli italiani non sta sovraccaricando gli italiani di ulteriore debito pubblico. Quindi chiederei al senatore Paragone in che senso Palazzo Chigi sta danneggiando i cittadini, perché quando si dicono delle cose bisogna specificarle, perché se no si dicono cose un tanto al tanto. Il possibile elettore quando sente che noi diciamo no all'impostazione di Palazzo Chigi che sta danneggiando i cittadini italiani, a che cosa si sta riferendo Paragone? Forse al fatto che l'Italia è nella Nato, nell'Europa, è nell'euro, visto che lui dice che bisogna uscire da tutto praticamente. Bisogna uscire dall'Europa, dai trattati commerciali dell'Europa, dall'euro, dall'Unione europea, dalla Nato, insomma bisogna uscire da qualsiasi cosa l'Italia è dentro. Il programma di Paragone è usciamo da qualsiasi cosa l'Italia stia facendo parte. Naturalmente io non sono d'accordo su questo, per me l'Italia deve stare nella Nato, deve stare nell'Europa, in un'Europa diversa, ormai uscire dall'euro il rischio non ne vale la candela perché uscire dall'euro potrebbe far precipitare la nostra economia al fallimento come potrebbe farla migliorare. Però visti i debiti che ha l'Italia, un paese così indebitato che esce da un giorno all'altro dalla moneta unica potrebbe portare dritto dritto al fallimento perché l'Italia non riuscirebbe più a pagare i debiti. Quindi Paragone può cavalcare il sentimento pubblico di alcuni italiani che dicono no a tutto, no all'euro, no alla Nato, però se voi poi ci pensate bene, realmente non è propriamente una genialata. Andiamo a vedere avanti altre notizie della giornata. Berlusconi, il centro siamo noi, gli altri guardano a sinistra. Berlusconi continua tutto il giorno a ripetere le stesse cose, che lui è il centro, lui è liberale, cristiano, europeista, amico dell'Occidente, siamo essenziali nella nuova maggioranza che guiderà il paese. Scusi Cavaliere, Forza Italia è essenziale nel centro-destra come è essenziale la Lega, come è essenziale Fratelli d'Italia. Tutti sono essenziali. Andare a dire noi siamo essenziali è come nelle aziende quando, l'ho sentito spesso, il reparto produzione che dice senza la produzione l'azienda non esiste. Il reparto commerciale dice senza le vendite l'azienda non esiste. Gli acquisti dicono senza gli acquisti l'azienda non esiste. L'amministrazione che dice senza l'amministrazione l'azienda non può esistere. Ecco, sono tutti fondamentali. La stessa ritornello che continua a ripetere Berlusconi. Noi siamo quelli che essenziali per il nuovo centro-destra. Sì, essenziali come lo sono essenziali tutti. Ecco, insomma. E quando lo sono tutti vuol dire che nessuno. Uno, nessuno, centomila. Va bene, comunque. Berlusconi continua a ripetere le stesse cose. È classico di... di solito quando le persone cominciano a ripetere sempre le stesse cose. Sì, ho capito, ho capito, cambia discorso. Ma ti avevo detto che noi siamo essenziali. Sì, l'hai detto ieri. No, ti ricordi che... Ah, il giorno dopo. Noi siamo essenziali. Sì, l'hai già detto. L'ho capito, ho capito, ho capito. Avvocato. Tajani dice che Draghi è una persona seria che non si presta a giochi di partito. Sapevamo benissimo, dice Tajani, che non si sarebbe prestato ai giochi di partito. Così dice bene anche la sua azione per individuare i fondi da assegnare a imprese e famiglie con il decreto aiuti. È una scelta positiva, andiamo avanti in questa direzione. Ora l'Europa deve fare la sua parte, mettere un tetto al prezzo del gas e continuare a tenere sotto controllo la borsa di Amsterdam perché non ci siano speculazioni. Scusi Tajani, il prezzo del gas non è sotto controllo. Ad Amsterdam in questo momento ci sono grandi speculazioni. Quindi continuare a tenere sotto controllo la borsa di Amsterdam presume che ci sia un controllo sulla speculazione. Continuare a tenere sotto controllo? No. Avresti dovuto dire, caro Tajani, mettere un prezzo al gas e tenere sotto controllo la borsa di Amsterdam. Non continuare a tenere perché continuare vuol dire che già lo stanno facendo e non è vero. E poi va assolutamente fatto il disaccoppiamento tra energia prodotta dal gas e l'energia prodotta da altre fonti perché queste costano molto di meno di quello che è il gas. Dobbiamo assolutamente continuare a lavorare per difendere famiglie e imprese. Salvini dice che la prima cosa che farà se vincerà le elezioni è la riforma delle pensioni. che vincerà lui le elezioni come premier o che le vincerà il centrodestra? Perché bisognerebbe chiedere a Meloni questo, no? Ma insomma, questo magari ne parliamo nel video successivo. Intanto Speranza dice che Salvini porterà l'Italia a sbattere. E insomma, non ha neanche tutti i torti. Ah, bella questa. Salvini dice che Draghi non si riferiva a lui quando ha citato politici che parlano di nascosto coi russi. Ah. Di Maio chiede di chiarire i rapporti tra Russia, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Va bene, insomma. Ci vediamo dopo per l'ultimo video e parleremo proprio di Salvinius, il Capitanus della Legas. Va bene, dai. A parte gli scherzi, che non sono scherzi. Ci vediamo tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci, grazie.